Grazie 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 Brawa Sì, sì, sì. 3, 2, 1. Grazie. 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 Ok. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 E' un po' di scelta. Hai ragazzi, hai ragazzi, hai ragazzi. Giù! No! Hai ragazzi, hai ragazzi. 2 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. . Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie a tutti.